Non hanno bisogno di pubblicità questi frammenti di paradiso terrestre, hanno solo bisogno di strade, perciò il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha approvato i progetti per le superstrade Cagliari-Porto Torres e Cagliari-Iglesias. Strade e alberghi sono i caposaldi dello sviluppo turistico. A Cagliari l'onorevole Rapelli visita i lavori per la costruzione dell'albergo Enalp, che sorgerà in Piazza Dante, un hotel modernissimo che disporrà di 70 camere e sarà dotato di aria condizionata. Nella serata Rapelli consegna una medaglia d'oro ricordo al professor Costa, insegnante anziano dell'ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, e premia con diplomi attestati di benemerenza, insegnanti e allievi meritevoli.